Andrea Coppa e diamo nuovamente il benvenuto al signor arbitro Ivano Cherubini. Grazie a tutti. Per Calu e Trevi, con il Thai Box, tre round da un minuto e mezzo. Svegliati! Rialza, rialza! Vagli sotto giù, vagli sotto! Svegliati! Chiuditi, la mano di caccia! Chiuditi, la mano di caccia! Svegliati! Vai giù! Svegliati! Svegliati! Forza! Tienilo, tienilo lì, tienilo lì giù! Controlla il piazzo, tienilo! Giro! 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 Dai, dai! Stai a piatto? Siamo a casa? Allora! Giro! Vai! Grazie! Guarda, alza la gamba! Alza, alza! Oh! Sì! Giro! 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 Fine della prima ripresa! Si preparino Carpanzano e Gabriela! Sì! Giro! 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 12 volte. Giro! U所以! Orde! Arte! Sei hack! Gü mı,�ule! Per offere il chauffeur! Sì! Provedere l'Image! Fuori in secondi! E' la seconda ripresa. E' la scuola. Ancora! Tienilo lì. Tienilo. Tienilo. Bravo! Cattivo. Cattivo. Tienilo. Tienilo. Pare che si sono agganciati alle corde. Due treppino. Veloce. Forti Joe. Cattivo. Vai Joe. Joe cattivo. Alzati dai. Taglia. Forti Joe. Ci porta Joe. Allora? O casa? Porco Dio Joe. Ford. Dai. Fuori! Fuori! Fuori!" Fuori! Hey! Se l'ha fermato. Fuori! Si è fermato! Basta! Abbandonato! va a salutare va a salutare poi saluta la ancora dove vai e vince per abbandono all'angolo rosso Bercau no bravissima for the faceless take the car chance